E' l'inaugurazione del Time Out, Raffaele Costantini, uno che di Time Out se ne intende. Intanto complimenti per questa promozione e poi complimenti per il lavoro. Grazie, grazie. Sì, oggi è un doppio festeggiamento, diciamo. Iniziamo l'attività di questo bar qui a Sassari, via Sulcis, e poi festeggiamo l'agoniata promozione in B della Bacchus. Ed era Bacchus, Sassari, i nostri ascoltatori sanno a cosa ci riferiamo. Come si dice in questi casi? A tutta birra. Sì, sì. A tutta birra e anche altre cose, che qua come tu puoi ben vedere ci abbiamo un po' di tutto. E quindi anche il centro scommesse della Stalli, e qui è un bar a tutto tondo, diciamo. Raffaele Costantini, lui è uno dei co-conduttori, si dice così? Sì, sì, siamo tutti nell'ambito della Palacanestro, siamo in quattro soci. In bocca al lupo? In bocca al lupo. In bocca a B, B, Bacchus, B... Eh, ci sono un sacco di cose. In B, sì, sì. Tranne che time out con la T. In bocca al lupo.